Avvocato D'Alessio, esordio da sindaco in consiglio comunale, le chiedo emozioni e priorità di programma. Emozioni sono sempre tante, la mia prima esperienza da sindaco, quindi è un'emozione unica e credo di aver formato una squadra con la quale possiamo fare un bel periodo insieme e rilanciare un territorio che merita, quale Mercogliano. La giunta è pronta, il sito del comune ne ha già dato notizia, insieme alla sua squadra quali obiettivi vuole raggiungere nel breve periodo o nel lungo periodo? Nel breve periodo, senza presunzione, già stiamo tenendo i primi risultati, abbiamo puntato tutto sulla quotidianità, sulla vivibilità, abbiamo già iniziato a ripulire una serie di macro-arie in varie zone del paese, stiamo cercando di dare priorità alle scuole, abbiamo iniziato dei primi sopralluoghi presso i palestri scolastici per evitare che si arrivi poi ad agosto in crisi. Nel lungo periodo? Nel lungo periodo la riqualificazione è a partire dal campo sportivo, dobbiamo riqualificare le strutture sportive, dobbiamo riqualificare il Borgo Antico perché è il cuore pulsante di un territorio quale Mercogliano e quindi da lì che dobbiamo ripartire per portare il turismo a Mercogliano.